Musica 166 Loris Barbieri 179 Lorenzo Liverani 180 Alberto Ravaioli Primo centropista che aprirà in questa finale numero 111 Prego A seguire si tagliano con gli atleti per il singolo stile di gioco 39 L'asse di due saranno 5 di atleti si dovranno posizionare a centropista Musica 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 Signori giudici, PIN, prego. 3, 2, 1, base. 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 3, 2, 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 base. Grazie a tutti 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 160 Grazie a tutti 166 Grazie a tutti 179 Grazie a tutti Andiamo a terminare con il numero 180 A seguire Signore maschile 1839 Grazie a tutti 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 Quarta posizione per il numero 157, Alex Calcolari, Giorgia Le Magiche Fruste. Quinta posizione per il numero 123, Michael Balmini, Diavoli della Frusta. Sesta posizione per il numero 166, Gloris Barnieri, Rimini, Dance Company. Cinque, gli atlini per il singolo bastile 1839, P2. Grazie.